perché parlare in questo modo era certamente complicato primo sindaco tornava con le palle così ecco poi dopo di me è arrivato gigino de magistris che invece era un bell'uomo no? De magistris arrivato a Napoli come sindaco camminava sempre senza cravatta la camicia tutta spuntata infatti è sempre stupita così De magistris che camminava andando a fare un po' pietta così gli altri capito perché aveva fatto l'uomo mare liberato a Napoli ho solo un po' pietta e tu guardi sti sovigliato? De magistris dicevano abbiamo scassato abbiamo scassato poi ce ne siamo andati non abbiamo avuto il tempo di aggiustare e abbiamo lasciato tutti scassato questo è dopo De magistris è arrivato l'attuale sindaco Manfredi credetemi vi dovete credere io non lo volevo imitare perché dice ma perché ha già fatto forse tutti i sindaci però camminavo per strada a Napoli e i napoletani mi fermavano non lo so se c'è non lo so e il capito non lo so ma se c'è non lo so se c'è non lo so ma sapete che la cazzima quella cattiveria camminava ieri non lo so non lo so ma io volevo imitare sono andato a vedere un po' di video sapevo che lui è stato il rettore della Federico II e quando sono andato a vedere le sue interviste ho notato una caratteristica che quando vedete Manfredi dopo che vi ho detto questa cosa lo capirete quando si fa una domanda al sindaco Manfredi su un problema di Napoli non ti rispondo a caso di più ma ti ripeto il problema c'è una tecnica che mi ricordo usava via all'università quando non sapeva niente allora proviamo a fare un'intervista al sindaco Manfredi per evitare Manfredi una caratteristica fondamentale è questa poi c'è un'ofisica a pieno che mi tengo perché è proprio sicca sicca infatti hai capito quando a Napoli ci sta l'allerta meteo non è per noi cittadini è per un sindaco dice sindaco oggi è nascito perché un po' che vede mi porta un coppo che aveva un allora per evitare allora fisico proprio a così sindaco Manfredi cosa si prova ad essere il sindaco della città di Napoli Napoli è una città molto importante Napoli è una città che confina a nord con Gazette a sud con Salern ad est con Benevente a Vellì Napoli è una città importante per il turismo per la agricoltura e la coltivazione delle barbabietole da zucchero non ci risulta ma vediamo i problemi sindaco un problema importante a Napoli è il traffico il traffico il traffico è un problema importante perché quando c'è il traffico non si va né avanti né indietro soprattutto i turisti non riescono a vedere le bellezze della città e soprattutto il traffico non permette la commercializzazione delle barbabietole da zucchero un altro problema che c'è sempre purtroppo a Napoli è il problema della spazzatura dice si spazzatura il sacchetto costruito sul del catetere del no, la sacchia la sacchia che è un problema importante perché i turisti cammina, cammina guarda sempre in alto per vedere le bellezze non vedi il sacchetto e si può inzampare però si potrebbero riempire i sacchetti di barbabietole da zucchero una volta sindaco l'ultimo problema è un problema semplice ma che purtroppo c'è sempre sono le buche ma come potete le buche quanti problemi che tiene Napoli tutto quanto a Napoli da Vermut è il problema della buca è un problema importante perché il turista quello cammina, cammina guarda sempre in alto per vedere tutte le bellezze non vede la buca e si va pesce la pesce la te però si potrebbero riempire le buche con la barbabietola la sua lì barbabietola la sua apposindaco che poi credetemi cari amici io non è che non volessi imitare Manfredi per qualche motivo particolare ma soltanto che mi sono reso conto che negli ultimi anni i sindaci non hanno quella importanza come lo eravamo una volta perché soprattutto in Campania c'è solamente uno che ha la comanda Vincenzo De Luce questa è la sigla fa la sentire bella con buca mi guardia solo tempo che mi incattivisco perché sento una personcina buona per fare De Luce ho bisogno di entrare nella cattiveria stiamo totalmente cambiando la regione Campania non vi preoccupate cittadini e cittadini da quando ci sono io le cose sono totalmente cambiate a cui c'era la sanità prima di me eri in uno stato imbarazzante andavi in un ospedale per fare un attacco non si faceva l'attacco andavi nell'ospedale non facevano andavi nell'ospedale l'orologio appeso faceva solo tic ma anche chi lo faceva e non parlare delle ecografie le donne incinte aspettavano mesi e mesi e il bambino già è uscito sta facendo la prima comunione stalla con il giglio in mano che gli vai a fare pensate che in quel periodo le donne quando andavano al loro primo appuntamento galante già prenotava dell'ecografia e si può mai sapere però parlare delle spese folli che ho trovato fatte dalla precedente gestione vai a vedere i conti degli ospedali 200.000 euro di spese degli ospedali per comprare i pappagalli e vabbè si può anche stare degli ospedali i pappagalli servono ma 300.000 euro i gabbietta che servono però parlare dei mezzi di trasporto quando arrivai a Santa Lucia parlavano di un treno io pensavo parlassero della dirigenza del Far West invece parlavano della circunvesuviana veramente straordinaria intanto adesso grazie a me i turisti da Napoli con la circunvesuviana arrivano a Pompei il turista entra nella circunvesuviana per andare a Pompei si guarda attorno e pensa che sta a Pompei tanto che invece si fanno i selfie wonderful la colonna romana no il New Brazil c'è stato ah si il confezuviano il mese scorso è arrivato il ministro giapponese in visita a Napoli a certo punto sapete come sono questi giapponesi sono tecnologici mi ha guardato e ha detto noi in Giappone abbiamo un treno che in un'ora tocca i 450 km orari si mi va a rispondere adesso il turista giapponese noi a Napoli abbiamo la circunvesuviana dove in un'ora un rattuso tocca 450 persone giapponese zitto va bene andiamo avanti ringraziando a Dio mi vedo senza mascherine come era bello l'epoca delle mascherine quando parlavo io avevo i lanciafiamme a portata di mano va bene io però lo dico sempre mettiamole le mascherine dice ma non per il covid ma dopo due anni vai a togliere la mascherina di improvviso non sai quello che esce sotto questi sono i risultati vabbè un saluto a voi e alle vostre famiglie Amen